Quindi, allora, essendo venerdì è il giorno del nostro capitolo dei calzini in fuga, allora se vi ricordate abbiamo letto l'introduzione dove la mamma, B e l'idraulico cercano di capire che cosa è successo, poi c'è stato il primo capitolo che era Miss Nera, il secondo capitolo Mr. Grigio, il terzo capitolo Mr. Blue, il quarto capitolo Miss Arighe, il quinto era su Mr. Dilana, oggi quindi è il giorno del sesto calzino. Vediamo un po'. Storia del sesto calzino, che capitò su un cespuglio di rose, si arrotolò su se stesso e poi vinse un concorso per il fiore più bello. Uno dei calzini di seta rossa, per la precisione il sinistro, scappò dalla cesta della biancheria sporca in realtà senza motivo. La mamma li adorava, li chiamava carezze per quanto erano morbidi e ripiegava apposta i jeans in modo che si vedessero. Ci teneva molto, li lavava esclusivamente con sapone in scaglie di rose e così via. Ma il calzino di seta rossa sinistro fuggì senza nemmeno voltarsi a guardare il fratello gemello, che si torceva il tallone per la tristezza. «Torna, fratellino!» «Non posso! Il mio è un impulso irrefrenabile!» gridò lui in risposta, prima di sparire nel buco sotto la lavatrice. Il cunicolo lo condusse nel bel mezzo dei giardini urbani. «Ah!» pensò il calzino di seta arrampicandosi a fatica fuori da un tombino e ritrovandosi su un sentiero cosparso di ghiaia. «Finalmente un ambiente che mi si confò!» E si avviò lungo il vialetto che si snodava tra le aiuole, passando accanto ad anziane signore che spuntavano le cime dei mandorli o coglievano ribes bianchi dai cespugli. A un certo punto notò un elegante signore in abito turchese, che osservava un cespuglio di rose con un'espressione molto angosciata. Sospirava, scoteva la testa e si asciugava le lacrime che le scorrevano sulla guancia. «Che cosa le sarà successo?» si chiese il calzino, ammirando il giardino curato alla perfezione, nel quale crescevano i fiori più belli dell'estate, daglie, zigne, astri, flox, piselli odorosi e anche rose. Nessuno dei proprietari dei giardini urbani aveva siepi di rose così belle. Il segreto della generalessa, perché l'anziana signora con il vestito turchese era la vedova di un generale, consisteva nel gettare ossi di pollo ai piedi dei cespugli. Alle rose quei bocconcini piacevano molto di più del concime in scatola in forma di speciali granuli e ricambiavano con fiori straordinari. Tuttavia questa dieta, piuttosto inconsueta per dei fiori, aveva alcuni effetti collaterali. Ebbene, i cespugli di fiori si battevano tra loro come galli gelosi, quando nessuno li vedeva naturalmente. Di sera cominciavano a profumare intensamente, poi si puntavano contro gli steli spinosi e zacca! La storica rosa Souvenir de la Malmaison, di un rosa pallido, pungeva la Henri Martin, di un rosa scuro. L'inglese New Dawn arpionava con le spine i fiori color salmone dell'alchemist. Era una guerra incredibilmente sanguinosa. Capitavano giornate in cui le rose si battevano fino all'ultimo petalo. La povera generalessa non si rendeva conto di produrre tutta quella confusione gettando gli ossicini di pollo ai piedi dei cespugli. Nonostante crescessero rigogliosi e avessero foglie carnose, i loro fiori, che di sera promettevano così bene, al mattino erano completamente distrutti. E nessuno sapeva il perché. Ma la generalessa aveva un serio motivo di preoccupazione. Quell'anno, infatti, si era iscritta al concorso per il titolo di miglior coltivatrice di rose. Il premio non era da poco. Una visita al più splendido giardino del mondo, a Sangerhausen, in Germania. Una volta il suo defunto marito le aveva promesso di portarcela, ma purtroppo non era stato possibile. Era il sogno più grande della generalessa. La mostra delle rose sarebbe cominciata già l'indomani e sul bellissimo cespuglio di Dan de Coeur che intendeva esporre non c'era neppure un fiore, neppure un petalo. Il calzino non poteva certo conoscere le preoccupazioni della generalessa, ma provò subito simpatia per lei. Si avvicinò un pochino di più e rimase impigliato nelle spine di rosa. Provando a districarsi, girò su se stesso prima una volta, poi una seconda. Ma ciò non ebbe l'effetto sperato. Anzi, sul ramo si creò un groviglio di seta che sembrava tale e quale a un bel fiore di rosa. E siccome non molto tempo prima la mamma della piccola Bella aveva lavato con il sapone in scaglia le rose, profumava proprio come una rosa. Alla vista del calzino il viso della generalessa si illuminò in un sorriso. Devo essere diventata completamente cieca! Com'è possibile che finora non abbia notato una rosa tanto bella e sontuosa? Anzi, in tutta la mia vita non ero mai riuscita a coltivare qualcosa di tanto incantevole. Sono salva! Il giorno seguente indossò il suo abito più bello, naturalmente rosa, si mise in testa un enorme cappello, ornato anch'esso di rose, e portò la cassetta con il cespuglio e il calzino di seta alla mostra. Come certo avrete intuito, vinse il primo premio del concorso. Secondo i giurati era riuscita a coltivare una varietà assolutamente nuova, che chiamarono Lola de Valence. Così la generalessa andò a visitare il rosetto di Sangerhausen, il che le procurò molta gioia. Decise di fare siccare la sua bellissima fortunata rosa, tagliò il gambo e la appese con il fiore all'ingiù sotto il lampadario. Al calzino di seta rossa si confaceva molto il ruolo di rosa, perciò deve essere ancora lì, appeso sotto il lume. Finita anche la storia di Mister Rosso, che è diventato una rosa, io vi saluto e ci risentiamo per altri video e altri capitoli. Ciao classe seconda! Grazie a tutti! Grazie.